Cosa ne pensi della conferenza con Giuliano fino a questo punto? È una conferenza assolutamente molto interessante, in particolare appunto per coloro che hanno o vogliono intraprendere un'attività di impresa dove appunto Giuliano espone e ci mostra la maggior parte di tutti i suoi segreti propedeutici ai fini di un'attività di impresa che possa portare e garantire il massimo del successo, quindi massimizzare il successo, quindi molto molto importante, è una conferenza molto interessante. L'argomento che ti ha colpito di più qual è stato? La focalizzazione per quanto riguarda la formazione anche di titolari appunto di impresa, quindi non solamente di chi desidererà in un futuro appunto esercitare un'attività del genere ma anche di chi ha già un'impresa, quindi esercita già un'impresa, quindi ha già un'azienda e anche di successo ma che continua a implementare la propria formazione ai fini di un successo sempre maggiore e la possibilità di guadagnare del tempo e quindi massimizzare il tempo, utilizzare il tempo nel manior modo per ottenere il maggior guadagno nel minor tempo possibile. Una domanda per Giuliano? Una domanda per Giuliano Sì, mi focalizzerei sempre sull'aspetto della formazione, quando forse è stato il momento di svolta in cui ha capito che era importante fermarsi dalla parte tecnica dell'imprenditore e sviluppare appunto competenze e quindi fare l'imprenditore a tutti gli effetti. Forse quello